La chiesa, quasi ultimata, fu benedetta il 13 agosto 1939 da Girolamo Chetcuti, ma la costruzione fu interrotta poco dopo a causa della Seconda Guerra Mondiale. La lanterna della cupola e i livelli superiori di campanili furono progettati da Giuseppe Damate e la loro costruzione iniziò il 25 febbraio 1946. L'edificio fu completato nello stesso anno. La chiesa ha un design neoclassico che ha somiglianze con la Basilica Maria Assunta di Mosta, a sua volta basata sul Panteone di Roma. In contrasto con la cupola circolare della chiesa di Mosta, la cupola della chiesa di Imager è ellittica. La chiesa ha due campanili e una grande cupola dipinta d'argento, quest'ultima domina l'orizzonte del paese. Internamente la chiesa contiene sette altari. La palla d'altare della chiesa è stata dipinta da Lazzaro Pisani, e l'edificio contiene anche una serie di dipinti di Ramiro e Guido Calì. Un altro dipinto della Vergine Maria del Pisani che si trovava nella vecchia chiesa si trova ora nella Sagrestia. La statua titolare della chiesa dell'Assunzione di Maria fu acquistata da Parigi, e alcune altre statue situate nella chiesa furono acquistate da Roma o Lecce in Italia. La chiesa comprende anche alcune statue realizzate dallo scultore Gozitano Wistin Camilleri.